Cupo e buio è il futuro dell'aeroporto di Comiso. In questi giorni lo scalo è stato al centro di diverse proposte che riguardano l'avvio in tempi rapidi in vista della chiusura di Fontana Rossa per i lavori alla pista. Ma il presidente dell'Enac Vitor Rigio ha chiuso ogni speranza visto che i lavori partiranno a novembre, mentre lo scalo casmeneo non aprirà forse nemmeno entro marzo. E così l'ipotesi di utilizzare la base di Sigonella scartata inizialmente per le resistenze del Ministero della Difesa potrebbe tornare in auge proprio grazie all'interessamento dell'Enac. Su Comiso non abbiamo né piste e nemmeno gli apparati collaudati ha commentato il Rigio, secondo il quale l'ipotesi Comiso è da scartare per due motivi. La struttura è stata consegnata solo parzialmente e l'Enac va a bisogno di sei mesi per assicurare i propri servizi sullo scalo comisano. Insomma, per novembre, detta il presidente dell'Ente Nazionale Avezione Civile, da Comiso non ci sono possibilità di decollo, ma a quanto pare nemmeno entro marzo. E intanto da ieri, dopo il nulla di fatto per l'apertura del Magliocco, Giovanni Cernigliaro e Angelo Giacchi, esponenti vittoriesi del Partito dei Siciliani, hanno cominciato un nuovo sciopero della fame davanti alla Prefettura di Ragusa. Ieri sera si erano spostati alla Camera di Commercio, ma questa mattina sono ritornati davanti all'ufficio del Governo. Ancora qui, ancora a pretendere l'immediata apertura dell'aeroporto di Comiso, ancora qui a registrare un'assenza forte di un Governo nazionale che non perde occasione per sputare in faccia dei siciliani. Questa è la verità. Ancora oggi continuiamo a leggere sulla stampa, sugli articoli di giornali, gli interventi vergognosi di Riggio, che si professa padre dell'aeroporto di Comiso e oggi assassino dello stesso aeroporto. Non perde occasione per fare in modo che quell'aeroporto deve restare chiuso. C'è la condincenza della chiusura della pista di Catania, una chiusura che diventa necessaria per la tutela dei cittadini e allora si pensa bene di trasferire quelli che sono i voli che dovrebbero arrivare da e per Catania, da Palermo a Reggio Calabria, senza immaginare che invece a 50 km c'è un aeroporto, l'aeroporto di Comiso, che è pronto. Mancano solo una settimana di pulizie e poi potrebbero volare tranquillamente tutti i voli che sono necessari per il territorio. Le 10 buche più sexy di Comiso. Altra denuncia da parte del giovane componente della direzione provinciale dei giovani democratici Gianluca Peluso a proposito della situazione in cui versano le strade comisane. I giovani democratici hanno deciso di organizzare un concorso di bellezza chiamandolo le più belle e pericolose buche di Comiso. Ma ecco le nomine. Si parte dalle partecipanti fuori concorso che hanno ricevuto il premio della critica. Prima la buca di Via Napoli, lasciata libera di far male a chi le pare. Due, la buca di Via degli Aragonesi. Tre, la buca di Via Benvenuto Cellini, strada senza sbocco abbandonata agli eventi atmosferici, senza alcun lavoro di ripristino. Ma veniamo al concorso. Ultime classificate in exequo le buche della strada che circonda il cimitero, posizionate a tale posto per l'omessa denuncia da parte dei residenti del luogo. In nona posizione la buca di Via Principessa Mafalda, bella ma non tanto pericolosa in quanto è in posizione defirata rispetto alla carreggiata. In ottava posizione la buca di Via dei Mille, bella e pericolosa, ma non più utilizzata in quanto quest'ultime arrivarono in Sicilia nell'11 maggio del 1860. In settima, Via delle Cave, d'altronde perché riparare una strada con questo nome. La sesta posizione va alla buca della Via Roma, riparata ma non troppo. La quinta posizione viene assegnata alla buca di Via Canicarau. In quarta posizione Via Romagna, da capire se i 6 metri di lunghezza e i 12 centimetri di profondità della buca, possano influire sulla pericolosità, in quanto strada poco trafficata, ma di certo non di meno come bellezza. Ed ecco il podio per i giovani democratici. Al terzo posto la buca di Via Fratelli Cervi, provocata da una perdita d'acqua denunciata più volte all'assessore Cassibba, che di volta in volta rispondeva, ma chi la deve riparare questa perdita, dato che non ci sono soldi né operai? Il secondo posto va alla buca di Via Ampere, anch'essa denunciata all'assessore Cassibba, questa volta non accomiso, ma al mare, da un suo vicino di casa, che quando non è in vacanza, abita nella suddetta via. E per finire, il primo posto va alla buca di Via Francesco De Santis, dove l'ignaro conducente di una fiammante BMW 320 nera, la prendeva e causava alla vettura un danno ammontante dalle prime stime a 2.500 euro, danneggiando seriamente la vettura, cosa ancora più grave che l'amministrazione comunale, anche dopo l'intervento di una pattuglia della locale stazione dei Carabinieri, si ostina a non voler segnalare la presenza e la pericolosità della buca stessa. Il gruppo giovanile, alla luce del dossier preparato, chiede interventi celeri al fine di ripristinare la viabilità, altrimenti concludono. Perché l'amministrazione non si dimette? Pasto incendi in un fienile di contrata Terra Nuova a Santa Croce e Camerina. Ci sono volute due squadre operative dalla sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre a due autobotti per il rifornimento idrico dei mezzi operativi per lo spegnimento del rogo. Le fiamme si sono sviluppate nel fienile realizzato con pilastri di calcestruzzo e copertura di struttura metallica, dove erano custoditi circa 500 rotoballe di paglia. Nelle fienile si trovavano pure alcuni bovini. Gli animali sono stati posti al riparo ma due bovini sono morti a causa del fumo denso che si è sviluppato per effetto dell'incendio. I pompieri hanno provveduto a circoscrivere l'incendio evitando che le fiamme coinvolgessero altri fabbricati della masseria. Per tutta la notte le due squadre e le due autobotti hanno operato per contenere l'incendio, supportati dalla squadra operativa del distaccamento volontario di Santa Croce. Due squadre operative, una della sede centrale e una del distaccamento di Santa Croce, oltre alle due autobotti per il rifornimento idrico dei mezzi, si sono adoperate fino ad oggi pomeriggio. Primo suono della campanella domani per i circa 350 alunni dell'Istituto d'Arte Salvatore Fiume di Comiso. Anche quest'anno sono stati attivati i cinque indirizzi che caratterizzano l'Istituto, arredamento, tessuto, ceramica, orificeria e la sezione plastica. L'ISA è una delle scuole superiori più antiche dell'intera provincia di Ragusa, fondata nel 1907, nella quale sono usciti fuori tantissimi talenti, come ha sottolineato il neodirigente scolastico Girolamo Piparo, che ha assunto la regenza considerato che la scuola è sotto i 600 alunni. Una scuola prestigiosa, il liceo artistico adesso Fiume di Comiso, una scuola antica, una delle scuole più antiche del 1907, tra l'altro l'istituzione di questa scuola, che vanta la formazione di centinaia di artisti, comisani e non, qualcuno è riuscito a raggiungere la vetta, a scalare per l'appunto la vetta del mondo dell'arte a tutti i livelli. Valorizzeremo queste professionalità quest'anno e cercheremo di attuare dei contatti con questi grandi personaggi che sono stati alunni del fiume con gli attuali nostri alunni, in maniera tale da costituire una sorta di rinforzo e da far tramandare, travasare quelle che sono le esperienze positive di questi personaggi ai nostri alunni e ci auguriamo che anche quest'anno tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Diverse le iniziative che la scuola metterà in campo durante l'anno scolastico permettendo ai ragazzi di approfondire i propri studi. Comunichiamo che tra poco, pensiamo alla fine del mese, partiranno 45 alunni della nostra scuola, un gruppo di 15 alunni andrà a Londra per un corso di perfezionamento in inglese e altri due gruppi di 15 alunni ciascuno, quindi 30 alunni andranno nelle Marche per dare luogo a dei tirocini formativi presso aziende di primo piano a livello nazionale, nel campo dell'oreficeria, dell'arredamento. Aeroporto di Comiso ancora senza certezze. A partire dal 5 novembre, quando lo scalo catanese chiuderà per i lavori alla pista, gli aerei saranno dirottati a Sigonella, base militare, che per l'occasione sarà attrezzata al traffico civile. Questa è la soluzione che si profila. Giovedì prossimo intanto ci sarà un nuovo tavolo tecnico che si svolgerà in prefettura. A convocarlo proprio il prefetto Giovanna Cagliostro, dopo il vertice che si è svolto questa mattina con i componenti del comitato ristretto, voluto dagli stati generali della provincia e coordinato dal segretario provinciale della CGL Giovanni Avola. Sul fronte a proteste e mobilitazioni Gianni Cernigliaro, esponente vittorese del partito dei siciliani, ha sospeso il suo terzo sciopero della fame. Cernigliaro insieme ad Angelo Giacchi da due giorni protestava davanti alla prefettura di Ragusa in attesa di una data certa per la firma della Convenzione per i servizi di assistenza al volo. Dopo la notizia dell'ennesimo tavolo tecnico hanno deciso di fermarsi, auspicando che questa volta sia l'ultima. Intanto il presidente dell'Enac, Vito Riggio, ha fatto chiarezza rispetto alle presenti dichiarazioni rilasciate da lui ed ha auspicato che la Convenzione per la fornitura dei servizi di assistenza al volo venga quanto prima definita. Riggio in una nota si augura che due enti vigilanti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell'economia diano parere positivo sulla Convenzione in modo da rendere operativo lo scalo, sottolineando che il ritardo nell'apertura dipende dall'assetto di aeroporto comunale deciso a suo tempo con una interpretazione dell'accordo di programma del novembre 2001 originato dall'intesa tra Stato e Regione siciliana. Di Pasquale è fuori dal listino bloccato che sostiene il candidato alla presidenza della Regione siciliana Rosario Crocetta e nessun componente del partito sarà inserito nella lista Crocetta Presidente. Nulla è cambiato dopo l'incontro di ieri tra il circolo cittadino del PD di Ragusa e lo stesso Crocetta, una giornata intensa quella dell'ex sindaco di Gela in visita ieri nel capoluogo. Dopo l'incontro con i precari della scuola e alcuni simpatizzanti, Crocetta si è recato alla sede di Via Natalelli per chiarire una volta per tutte come stanno le cose. Ad accoglierlo un Peppe Calabrese teso come una fune e carico come un fucile. Alla segreteria del partito non è piaciuta la candidatura di Di Pasquale nella lista a sostegno del presidente e su questo Calabrese e i suoi volevano chiarimenti. Nelle scorse settimane il gruppo vicino al segretario aveva addirittura considerato la possibilità di non votare a sostegno del proprio candidato, ma dopo ieri quest'idea è stata ritirata. La scelta di Crocetta ha fatto vivere settimane difficili al partito cittadino e certamente continuerà ad avere strascichi anche nelle prossime. Il PD ha infatti mostrato con la massima evidenza fratture antiche che finora solo in rare occasioni erano emerse. Chiaro è che il partito scricchiola sotto il nome di Calabrese. Il segretario non piace a molti e in queste settimane questo è stato palese. Da chi, come il consigliere Barrera, si è detto da sempre pronto a sostenere Crocetta, senza se e senza ma, a chi ha proposto la candidatura di Calabrese alla competizione, ufficialmente per valutarne il peso politico, ma per la verità per decretarne la fine definitiva. L'incontro di ieri non ha regalato alcun colpo di scena. Tutto è andato come doveva andare. Crocetta non ha cambiato idea e il PD ha abbassato la cresta. Secondo un copione per molti stabilito da tempo. Che succederà adesso non si sa. Il prossimo appuntamento è per lunedì, quando si riunirà la segreteria provinciale, che scioglierà ogni dubbio sui candidati nella lista ufficiale del PD. Certo è che Ragusa avrà il suo candidato forte, dunque uno, tra di Giacomo e Ammatuna, più probabile quest'ultimo, deve abbandonare la scena. La scelta spetterà al segretario Zago, nei confronti del quale ha commentato Calabrese Ponzio Pilato e nessuno. Come si dice, tanto il rumore per nulla. Partito Democratico e Bleio, stai attento, arrivano i rottamatori. In vista delle primarie all'interno del partito per scegliere il candidato premier per le prossime elezioni nazionali di aprile, anche a Ragusa è nato un comitato che sostiene il rottamatore Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze, come noto da parecchi mesi oramai, ha aperto una battaglia tutto interno al PD per rinnovare la classe dirigente e chiedere ai big di fare un passo indietro. Celebre la sua affermazione, cambia il nome del partito, ma le facce restano sempre le stesse. E' come dagli torto, in vent'anni dal PC si è passati al PDS, ai DS e ora al PD. Ma i dirigenti sono sempre gli stessi, Massimo D'Alema su tutti. Dunque anche in provincia di Ragusa è arrivata la ventata di era nuova. Come hanno spiegato i promotori del comitato, Salvo Liguzzo, Biagio Taranto, Marco Di Facco e Raffaele Iacono. La rottamazione è la parola chiave dell'idea, del pensiero di Matteo Renzi. Noi l'abbiamo sposata in pieno. Per rottamazione intendiamo non buttare dalla finestra chi in questi anni ha lavorato per il partito e per il paese. Bensì si chiede alla classe dirigente, che finora è stata in prima linea, di magari fare un passo indietro e dare possibilità e spazio a giovani, a persone, a linfa nuova, a sangue nuovo, che sicuramente faranno bene per il paese e per il partito stesso. C'è bisogno di novità, c'è bisogno di entusiasmo e i giovani che appoggiano Matteo Renzi sicuramente ne hanno abbastanza. Come ha evidenziato Salvo Liguzzo all'interno del comitato, ci sono molti giovani e molte persone che si sono riavvicinate alla politica. Appena uscito il comunicato stampa di annuncio di questa conferenza stampa, e parecchi amici e simpatizzanti hanno pensato bene di contattarci chiedendo di essere tenuti debitamente informati sulle attività di questo comitato. Primo suono della campanella per la maggior parte degli studenti della provincia di Ragusa oggi. Qualcuno è iniziato infatti con qualche giorno di anticipo per via dell'autonomia scolastica. Questa mattina all'Istituto Comprensivo Verga di Gomiso c'è stato il saluto di benvenuto per i ragazzi di prima media, da parte della dirigente Caterina Giudice e dei professori di musica, che hanno suonato qualche brano per alletare i ragazzi e i loro genitori. Subito dopo c'è stata la comunicazione della composizione delle prime classi. Cinque in tutto, due ad indirizzo musicale e tre a tempo potenziato a classi aperte. Oggi è un giorno fantastico ed emozionante, un giorno veramente importante per tutti noi, noi operatori della scuola, ma essenzialmente per i ragazzi che arrivano in questo istituto. Molti provengono dalla scuola elementare Monzerrato, quindi già conoscono le nostre abitudini, conoscono le nostre offerte. Ce ne sono tanti nuovi, ma noi siamo sempre pronti a dare a ciascuno il loro. È stato molto emozionante perché i genitori hanno trasmesso questa emozione. I genitori sono molto vicini ai loro figli e molto vicini a noi. Quindi speriamo di accontentarli, ma essenzialmente la cosa più importante è di dare a loro quello che hanno di bisogno e di farli progredire sia umanamente sia culturalmente. L'Istituto Comprensivo Verga, che comprende anche la scuola elementare, conta all'incirca 700 alunni. Dunque nessun problema sia registrato dal punto di vista della regenza, a differenza di altre scuole della città. Come ogni anno, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a molti progetti promossi dalla scuola, come quelli sulla sicurezza, sulla legalità, sulle tradizioni e la conoscenza dei monumenti della propria città e naturalmente i concerti dell'orchestra. Non resta che augurare un bel in bocca al lupo ai ragazzi per il nuovo anno scolastico. Buone notizie per gli studenti pendolari di Comis e Vittoria che devono recarsi a Modica dopo la decisione dell'azienda siciliana Trasporti di sopprivere il collegamento Vittoria-Modica causando gravi disagi e arrivata la disponibilità di Trenitalia a predisporre la tratta per i ragazzi. Infatti Trenitalia ha messo a disposizione una carrozza di 68 posti che partirà alle 6.58 da Vittoria per raggiungere Modica alle 8.04. Non solo, ma in attesa dell'assegnazione di una seconda vettura sulla stessa tratta, Trenitalia mette a disposizione anche un pullman. A Modica, infine, grazie al dirigente scolastico che è interessato a prefettura e provincia, ci sarà un bus e navetta che porterà gli studenti dalla stazione ferroviaria a scuola. Insomma, lavoro sinergico, ha commentato il primo cittadino di Vittoria Giuseppe Nicosia, è intenso per far sì che già dal primo giorno di scuola siano azzerati i disagi causati agli studenti dalla decisione dell'Ast. Dunque, resta così garantito il diritto allo studio per i circa 200 studenti pendolari di Vittoria e Comiso. Incidente stradale autonomo stamattina, un quarto d'ora dopo le 7, sulla ex strada statale 115 Modica Ragusa. Ad essere coinvolta una Mercedes che viaggiava in direzione di marcia Modica Ragusa. Il conducente, un e cinquantotenne di scicli che viaggiava da solo, giunto al chilometro 330, zona con trada coste, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. L'auto, collidendo più volte, ha invaso la corsia opposta. Dopo aver sfondato il guardrail, la Mercedes è precipitata nella scarpata sottostante. Lo sciclitano ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale civile di Ragusa, dove adesso è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la postrada di Ragusa per i rilievi del caso. Crocetta di Pasquale e il comunismo. Una triade che farebbe rivoltare Marx nella tomba per l'incoerenza che la sostiene. Crocetta si è sempre professato un comunista rosso dentro, dunque di quelli che Marx e Stalin gli scorrevano nelle vene per dirla tutta, ma tale spirito comunista, tale senso di appartenenza all'identità rossa sembrava essersi sopito di fronte alla scelta del candidato di avere accettato l'appoggio del PD. Già allora un venduto al centro-sinistra per molti esponenti di quella sinistra estrema per i comunisti in poche parole. Ma Crocetta si è spinto oltre e da comunista qual è ha scelto di candidare nella lista civica che lo sostiene un uomo di centro-destra, Nello Di Pasquale, ex PDL. Altro che assopimento a quel punto lo spirito comunista è proprio deceduto. Crocetta si è giustificato in vari modi, usando argomentazioni più o meno credibili sul coinvolgimento di uomini che vengono dal territorio, ops dalla società civile. Di Pasquale dal canto suo ha ricordato con qualche lapsus temporale la sua evoluzione politica circondandosi di belle parole sui progetti futuri e sul fascino e sulla semplicità parole di ieri mostrate da Crocetta. Intanto gli uomini fedeli all'ex sindaco, totalmente sperduti nel panorama politico, non hanno potuto fare altro che seguirlo nelle sue scelte, alcuni dei quali accettando addirittura l'affronto, o forse sarebbe meglio dire vergogna, mediatico e politico di essere purati dal loro partito pur di non tradire il loro mentore. Ma adesso cosa faranno costoro? Sono pronti a mettere una crocetta, scusate il doppio senso, sul simbolo di un comunista rosso dentro? Se lo chiedono dal PD cittadino. Parliamo, dicono dal partito, del vice sindaco Cosentini, della consigliera Malfa, dei consiglieri Larrosa, Firinceli, Licitra, D'Aragona, Cinto, Loccipinti, Di Stefano, Chiavolo, addirittura ex fascista e di tutti gli altri. Cosa faranno questi amici del sindaco? Voteranno per un comunista? Al momento i fedeli fanno il giurin giurello e si dichiarano pronti a sostenere l'ex sindaco, ma chissà cosa accadrà nell'angusto spazio della cabina elettorale il 28 ottobre, che al momento del voto i consiglieri decidano di mettere la crocetta altrove, magari il ricordo di quella giovinezza che fa tanto primavera di bellezza. E' giunto a conclusione il progetto Legali al Sud, svolto a liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa. Due i volumi presentati a conclusione di un bienno di attività, Io amo la mia polis, e sulle regole. I testi raccolgono le esperienze, le riflessioni e gli approfondimenti svolti dagli studenti durante gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012. Abbiamo prodotto due volumi, due volumi che sono stati proposti come una novella antologia di Spurriver e per cui i ragazzi si sono fatti carico della storia e anche delle sensazioni, della sensibilità di alcune vittime di mafia, quindi hanno parlato, hanno dato voce a questi personaggi. Volutamente non hanno parlato di Falcone e Borsellino, perché Falcone e Borsellino, che sono le vittime più famose, quelle che hanno maggiore carisma e che comunque sono conosciuti da tutti, diventano un po' il filo conduttore perché nel libro sono presenti con le loro frasi. Il progetto Legali al Sud è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PONE 2007-2013 e ha visto il liceo Fermi lavorare in partenariato con l'Associazione Antimafia Libera. Grazie per la visione!